Allora io voglio sapere, ma da quando è che abbiamo cominciato a fare tutti questi regali e comprare tutte queste cose? Ma da quando è? Ma non solo a Natale, anche in momenti in cui non è richiesto. Per esempio voi a Milano ci avete un'usanza barbara che avete inventato voi e stasera mi dovete spiegare perché, da voi lo voglio sapere, che, dalla signora, me lo spiega la signora, alle feste dei bambini, ai complenni dei bambini, il festeggiato riceve un regalo perché tutte le mamme attraverso le chat si mettono finalmente d'accordo e comprano sul regalino, ok? Lui a sua volta fa un regalino a tutti i bambini che sono andati alla festa, quindi ne riceve uno, ne fa venti. Ti è convenuto fare questa festa? Ma io voglio sapere perché, perché, perché il festeggiato deve fare un regalo? Perché? Lo voglio sapere stasera, perché? Dice per ringraziare, perché non ti bastano le popcorn, le patatine, la torta, il mago, i palloncini, no, pure il regalino ci vuole. E i genitori dicono no, perché altrimenti i bambini non si sentirebbero coinvolti nel festeggiamento e vivrebbero la festa del compagnetto come un trauma e non potrebbero gioire fino in fondo della sua gioia. Ma vaffanculo! Vaffanculo! Non è vero!